Dopo la quinta seduta, tenuta verso le 6 e mezzo 7 del giorno 18 agosto 2004, ci sono stati dei fenomeni, chiamiamoli così, di poltergeist. Uno di questi è stato lo spostamento del mio telefonino che da qui, faccio vedere, da qui, qui dal mio comodino, è giunto o avrebbe dovuto percorrere questo tragitto. Ecco, io l'ho trovato qui, quindi sotto il televisore e accanto al videoregistratore. Grazie a tutti.